E' iniziata l'era Luciano Foschi, presentato alla stampa il nuovo allenatore dell'Ecco, dopo l'esonero lampo di Alessio Tacchinardi, 55 anni, originario di Roma. Foschi conosce già l'ambiente lecchese, da giocatore ha vestito per due stagioni la maglia blu celeste a metà degli anni 90. L'entusiasmo che ho è quello che avevo da giocatore, io ho sempre, ma voi lo sapete come la gente lo sa, ho sempre amato questa piazza perché comunque questa maglia me la sono sempre sentita addosso, anche quando sono andato via. E quindi sono, quando ho ricevuto la chiamata del presidente, mia moglie mi ha definito un bambino che aveva preso il suo giocattolo nuovo e che ero emozionato sabato sera, quindi domenica. E quindi per me è una grande opportunità, al di là della piazza, al di là della gente, dobbiamo fare in modo di sovvertire quello che è adesso perché magari ci sono dei malumori, c'è una situazione così, però io credo che i ragazzi siano ben disposti nel voler cambiare rotta, si sono allenati molto bene. Il presidente è il presidente. Signori, quando poi c'è da pagare, non è che paga qualcun altro, paga il presidente. Detto in parole poveri, io sono romano di nascita, se io ti lassi fuori i soldi per fare una cosa così, e io voglio dire quello che mi pare e voglio fare quello che mi pare e nessuno si deve permettere di dirmi cosa devo dire e cosa devo fare, sinceramente, ma è così in tutti i mondi. Mister Foschi preferisce non dare indicazioni sugli uomini e sul modulo che sceglierà per il suo esordio sulla panchina dell'Ecco sabato alle 17.30 contro il Mantua, ma due importanti indicazioni sì, più spazio agli under, come desiderato dalla società, e il ritorno di Zambataro in fascia e non più in mezzo al campo. Io non ho visto una squadra brutta in queste partite, ho visto una squadra che non faceva le cose. Guarda, io molto semplicemente questa settimana ho lavorato sulla testa dei giocatori, fisicamente li ho trovati ben allenati, tatticamente avevano la loro idea, comunque, però li ho trovati un po' bloccati. Io l'ho avuto a Zambataro un anno e quindi secondo me Zambataro è un esterno, poi, come vi ho detto prima, se non ho proprio nessuno e devo far giocare centravanti Melgrati, so cosa mi può dare, ma se proprio non ce n'ho e siamo in 11, devo far giocare lui.